La posizione di Col diretta è che dobbiamo continuare nel lavoro che abbiamo iniziato sia con Milano in quanto città ma soprattutto a livello regionale per i grandi progetti che sono stati attuati nell'implementare la presenza di una piantumazione di verde pubblico ma anche privato e garantendo in questo modo un abbattimento sia delle polveri sottili che di anidride carbonica e di CO2. Noi siamo convinti che se continueremo come abbiamo fatto negli ultimi anni